Nato in Italia nel 1920 a Resina, cioè l'odierna Ercolano, E.N.A., da Elisa e Gennaro Gardenia Scognamiglio, visse a New York, Stati Uniti, dall'età di due anni. Quando la famiglia Ivi si stabilì, debuttò in una commedia teatrale in inglese nel 1955, ma dall'età di cinque anni fino al 1960 recitò in italiano nella compagnia teatrale fondata dal padre, composta da soli emigranti italiani, che si esibiva per un pubblico di italo-americani. Gardenia è ricordato principalmente per il suo ruolo del cuoco casalingo Frank Lorenzo, vicino di casa dei bunker nel corso della quarta stagione, stagione 73-74, della popolare sitcom Marcibaldo. Candidato due volte ai premi Oscar, nel 1974 e nel 1988, morì d'infarto nel 1992, un mese prima di compiere 73 anni.